Lavori nella Meeting Industry? Da oggi puoi certificare la tua professione di Meeting and Event Manager. Con la certificazione favorisci il riconoscimento dell'intero settore degli eventi e rendi più competitiva sul mercato l'impresa in cui lavori. La certificazione ha infatti valore internazionale e nei bandi di gara è sempre più richiesta la presenza di figure professionali certificate. Per certificarsi è necessario sostenere l'esame presso il centro di esame autorizzato. Le associazioni di settore FederCongressi ed Eventi e MPI Italia Chapter sono centri di esame autorizzati a rilasciare la certificazione professionale grazie alla convenzione sottoscritta con Intertech, multinazionale accreditata presso Accredia. La certificazione professionale si ottiene superando l'esame che si basa su tre prove, due scritte e una orale. L'esame comprende le cinque fasi di attività del Meeting and Event Manager, presidio del mercato, progettazione, organizzazione pre-evento, svolgimento evento e gestione post, e le tre attività trasversali, comunicazione, gestione economico-finanziaria, safety and security. All'esame possono accedere i professionisti in possesso di prerequisiti relativi agli anni di esperienza professionale in base al livello di istruzione e la partecipazione a corsi di formazione specifica. La norma è stata elaborata sotto la competenza della Commissione Tecnica di Uni Ente Italiano di Normazione. Fa parte del Corpo Normativo Nazionale ed è la Uni 11786. Più Meeting and Event Manager certificati, più valore per la Meeting Industry.